Mi chiamo Stefano e vivo a Pordenone. Sono comproprietario, assieme a mia moglie Francesca, della casa dove abitiamo e siamo residenti, oltre che di un garage. Quali tasse sugli immobili devo pagare al comune? Per l'abitazione principale, lei deve pagare esclusivamente la Tasi. Non deve pagare l'Imu, a meno che la sua abitazione non rientri in categoria di lusso, A1, A8 oppure A9. Quanto devo pagare di Tasi? Ha bisogno, prima di tutto, di conoscere il dettaglio delle sue proprietà. Deve perciò procurarsi la visura catastale. Può ottenerla online collegandosi al sito dell'Agenzia delle Entrate, agenziaentrate.gov.it, oppure può recarsi personalmente alla sede dell'Ufficio Provinciale del Territorio e chiederla agli sportelli. A Pordenone gli uffici si trovano in via Borgo Sant'Antonio numero 23. La visura è gratuita. Se è già in possesso di una visura recente e non ci sono state variazioni, può utilizzare quella. Ecco il tipo di documento che le verrà rilasciato. I dati che deve prendere in considerazione sono la categoria ed il valore della rendita catastale, su cui si basa il calcolo della Tasi. Ora che mi sono procurato la visura e conosco i valori catastali, quale calcolo devo fare? La sua abitazione appartiene alla categoria A2 ed ha una rendita catastale di 1000 euro. Inoltre lei è proprietario di un garage che appartiene alla categoria C6 con una rendita catastale di 90 euro. Deve moltiplicare questi valori per il coefficiente di rivalutazione, pari a 1,05. Si tratta di un valore definito dalla normativa nazionale. E poi moltiplicare per 160. Questo è il moltiplicatore da applicare alle abitazioni e dalle pertinenze. Per altri tipi di immobili, l'elenco completo dei moltiplicatori è disponibile nel sito del Comune. In tal modo otterrà la base imponibile, che nel suo caso è di 168.000 euro per l'abitazione. E di 15.120 euro per il garage. Per calcolare la tasi, deve infine moltiplicare la base imponibile per l'1,25 per mille. Questa è l'aliquota stabilita dal Comune di Pordenone per il 2014. Il totale così ottenuto è pari a 228,90 euro e rappresenta l'importo della tasi dovuta per l'abitazione principale e la sua pertinenza per l'intero anno 2014. A questo punto dovrà suddividere l'importo totale in due rate uguali arrotondate, l'acconto ed il saldo. Se la rendita catastale della sua abitazione è inferiore o uguale ad 800 euro, dovrà detrarre dall'importo ottenuto 25 euro. Quali sono le scadenze? E come si effettua il pagamento? L'acconto va pagato entro il 16 giugno. Il saldo entro il 16 dicembre. Può anche scegliere di pagare l'intero importo in un'unica soluzione entro il 16 giugno. Il pagamento va effettuato utilizzando il modello F24, disponibile in posta o in banca, oppure tramite home banking. Nel caso in cui ci siano più comproprietari dello stesso immobile, solo uno di essi dovrà provvedere al versamento dell'intero importo dovuto. Ecco dunque come compilare il modello F24. Dopo aver inserito i dati anagrafici nella sezione contribuente, compilare la sezione IMU e altri tributi locali, fornendo i dati richiesti. Codicente G888 per il comune di Pordenone. Indicare se si tratta di acconto o di saldo. Il numero di immobili, nel nostro caso sono due, abitazione e garage, in quanto vengono considerate le unità iscritte in catasto. Il codice tributo, 3958 per indicare tasi, abitazione principale e pertinenze, l'anno di riferimento e l'importo a debito. Nel sito del comune di Pordenone, all'indirizzo comune.pordenone.it.tributi, trova tutte le informazioni dettagliate e uno strumento di calcolo in grado di produrre il modulo F24 compilato.